La Roma doveva dare un segnale al campionato, il segnale è arrivato con un punteggio roboante 7-0 nei confronti dell'Empoli, ultima in classifica con 0 punti e 0 gol fatti fino a questo momento quindi un punteggio che è andato ben al di là anche delle più rose aspettative dovevamo vincere, questa era la cosa importante, si è vinto, si è vinto naturalmente anche bene è una partita che si è messa subito sui binari della regolarità per noi dopo due minuti in gol con un calcio di rigore alla Roma poi non ha avuto veramente la bench minima difficoltà segnali positivi ci sono stati, Di Bala che torna chiaramente al gol, la doppietta, una traversa il gol anche di Renato Sanchez, il primo gol di Lukaku, insomma ci sono sicuramente tante cose positive adesso comincia il campionato della Roma ma comincia il campionato della Roma con un po' di ritardo perché insomma è inutile poi ricordare che i punti che abbiamo perso sono punti che adesso dovremmo cercare in qualche modo di andare a recuperare, di correre e di rincorrerli e non sarà certamente facile vista la stagione, adesso avremo tre trasferte consecutive, una in Europa League contro lo Sheriff 2 in campionato a Torino contro il Torino e a Genoa contro il Genoa e da lì poi vedremo insomma fino alla prossima pausa del campionato ci saranno due partite di Europa League e cinque partite di campionato ecco dopo questo blocco, questo secondo blocco di stagione potremo avere magari le idee un po' più chiare. È normale che l'avversario era un avversario molto più deboli rispetto alla Roma, c'è bisogno anche di impegni anche diversi per cercare di testare veramente le possibilità che può avere questa squadra, questo organico perché poi mancavano comunque tanti giocatori, altri che erano entrati e comunque non erano certamente al meglio e devo dire la sincerità verità la mia più grande paura era proprio quella di sperare di vedere arrivare fino alla fine della gara tutti i giocatori comunque in buone condizioni, per fortuna le cose sono andate nel verso giusto non ci sono stati infortunati quindi pian piano si stanno recuperando anche i giocatori, recupereremo naturalmente anche Agua, recupereremo naturalmente anche Pellegrini recupereremo anche Smalling, oggi ha fatto il suo esordio dall'inizio in Dica in difesa insomma non è stato un granché impegnato, l'Empoli non ha veramente messo, non ha dato nessun tipo di problema alla retroguardia, alla retroguardia, a giallo rossa ma a tutta la Roma in generale ecco perché c'è bisogno comunque anche di prove diverse per poter dare un giudizio definitivo quello che è proprio l'organico, l'intero organico della Roma, però c'era anche bisogno rispetto di una bella vittoria, di una vittoria, di un segnale ben preciso e ce lo teniamo, ce lo teniamo stretto, ce lo godiamo, ci prendiamo i tre punti e speriamo che possano essere l'inizio ecco l'inizio di una stagione che possa veramente darci delle soddisfazioni, le potenzialità naturalmente ci sono, sperando che siano tutti quanti nelle migliori condizioni possibili adesso giovedì iniziamo l'Europa League, iniziamo il cammino in Europa League e cerchiamo di farlo naturalmente con il piede giusto, il segnale oggi è partito, il segnale oggi la Roma lo ha dato, un abbraccio a tutti quanti voi e sempre 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 forza Roma, forza Roma, forza Roma